Guarda, io oserei dire anche un po' passolignano questo posto. Vogliamo andare un po' in mezzo? Andiamo. Vedi qua. Accompagnami tu. Vedi qua. E fammi da guida. Sì, qua c'è l'angolo. È l'angolo dove solitamente accadono anche cose molto... Indicibili. Che non si può dire in video. Ok. Non voglio creare. Ah, qui c'erano le foto di Livio. Come si chiama? Elvio. Sì, fu un fotografato Elvio e qualcun altro. Mi ricordo questo gioco di asfalto. No, ma l'indicibili non è stupendo. È una giornata... come si potrà definire? È una giornata rivelatrice. Anche quella giornata che dice la verità. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.